Circa un anno fa è stata una settimana, come fortunatamente non se ne trascorrono tante in questa zona. Un anno fa avevano seminato il panico in Valdarno per le rapine a mano armata messe a segno in un paio di bar e in una banca per un bottino superiore a 100.000 euro. Adesso la banda criminale è stata individuata e questa mattina sono scattati gli arresti al termine dell'operazione Giglio. In manette cinque persone di origini palermitane e casertane, autori di rapine pluriaggravate. L'importante è che ancora una volta l'arma dei carabinieri sia riuscita a dare una risposta concreta al territorio. Tutto era iniziato il 21 gennaio 2020 quando la banda, composta da quattro uomini incappulciati, fece irruzione in un bar di terra nuova. Strattonarono gli anziani titolari costringendoli a farsi consegnare il contenuto del registratore di cassa, circa 700 euro. Nemmeno un'ora dopo un altro colpo identico a loro ciuffenna. Il 29 gennaio poi il terzo colpo, un raid all'interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Caviglia. Basavano la propria azione criminale sulla rapidità d'azione e quindi anche sotto certi punti di vista sulla sorpresa che questo ingenerava nelle vittime. Forse l'unico aspetto veramente differente tra i tre colpi è l'entità del bottino che è stato sottratto. Immediato così l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri di San Giovanni con minuziosi sopralluoghi ed analisi delle immagini immortalate dai circuiti di videosorveglianza. È stato fondamentale il patrimonio informativo che è frutto dell'azione di controllo del territorio e della diffusione capillare delle stazioni. Perché questo ha consentito fin da subito di focalizzare l'attenzione su una macchina. In particolare era stato segnalato in occasione delle prime due rapine e proprio quel modello di auto era stato notato nei giorni precedenti dalle nostre stazioni per essere in uso a un soggetto pregiudicato di origine meridionale. I militari così sono riusciti a risalire ai responsabili. Alcuni di loro vivevano stabilmente in Valdarno, altri invece veri e propri professionisti delle rapine erano arrivati appositamente da Palermo e provincia. Erano sicuramente professionisti dei riterriati contro il patrimonio con svariati precedenti alle spalle specifici per furti, aggravati e rapine.